Dunque, il motore interno rende più robusta la ripresa, più resistente alle influenze esterne nocive. Secondo le proiezioni macroeconomiche di lavoro della BCE del settembre, l'espansione economica continuerà a tassi di crescita al di sopra del potenziale nell'orizzonte proiettato. L'attuale crescita annuale di PIL reale si prevede aumenti del 2,2% nel 2017, dell'1,8% nel 2018 e dell'1,7% nel 2019.